Ciao ragazzi e bentornati in questa nuova recensione. Diciamo che voglio partire con una settimana dedicata ai film in concorso agli Oscar 2021 e vorrei partire con Tenet. È un film candidato a due premi Oscar e non come miglior film, questo è vero, però è in un certo senso il film migliore secondo me con cui partire. Perché? Perché è stato quello che ha tentato di rilanciare il cinema al cinema appunto non riuscendoci o perlomeno riuscendoci solo in parte anche perché come sappiamo poi è accaduto, ci sono stati altri lockdown, il covid ancora adesso permane e quindi ancora non è ripartito il cinema al cinema. E il secondo motivo per cui voglio partire da questo film è stato l'ultimo film che personalmente ho visto al cinema ed è stato l'unico film che ho visto nel corso dell'ultimo anno. E questa cosa penso non valga soltanto per me ma moltissimi di voi penso abbiano fatto la stessa cosa. Abbiamo tentato magari di vedere Tenet al cinema e sperando in una ripartenza che poi non c'è stata. Non è stato l'unico film ad essere proiettato però personalmente è stato l'ultimo e unico che ho visto nel corso degli ultimi 365 giorni diciamo. Vi ricordo che questo film l'ho visto in IMAX e penso che l'IMAX sarà il perno centrale della ripartenza dei film al cinema perché offre una qualità che a casa non è possibile avere sia dal punto di vista visivo che soprattutto sonoro. L'impianto 3D del sonoro IMAX è stato qualcosa di mai sentito mai udito se non in alcuni rari casi in cui magari si è andati a Disneyland e c'era la saletta cinema in cui facevano vedere l'audio 3D, 4D, 5D e l'IMAX ricalca un pochino quella sensazione, il fatto di avere la tridimensionalità del suono che solitamente si ha con magari un impianto surround però l'impianto surround di un certo livello costa anche migliaia di euro e quindi invece con 10, 12, 15 euro di IMAX è possibile vedersi un film con quella qualità. Mi soffermo molto sulla qualità visiva di Tenet partendo dal presupposto che è candidato ai premi Oscar per i migliori effetti visivi speciali e per le migliori scenografie. Io sinceramente mi aspettavo anche la nomination per il miglior montaggio così non è stato, me lo aspettavo però a me è molto piaciuto anche il montaggio e dal punto di vista prettamente tecnico lo trovo veramente riuscito anche se effettivamente la storia è forse il punto debole di questo film. Punto debole voluto però da Nolan perché conosciamo bene questo regista, anche i detrattori ammetteranno che nei suoi film cerca di spiegare per filo e per segno il contesto, il mondo che vuole raccontare Nolan, Inception, ti butto all'interno di un sogno, non capisci una mazza, dopo ti spiego per filo e per segno cosa è successo perché lo andremo a rivedere successivamente. Memento, una storia apparentemente molto semplice raccontata in questa chiave di racconto a 15 minuti alterni, in cui vediamo l'inizio, la fine, l'inizio, la fine, fino ad arrivare alla conclusione che è al centro del film. Nolan molto spesso all'interno dei suoi film sfrutta un'idea per raccontare una storia oppure viceversa parte dall'idea e poi ci costruisce la storia intorno, chissà come fa, non lo so. In questo caso sceglie di raccontare un po' meno rispetto al passato, in un certo senso di omettere diversi dettagli, per esempio il nome del protagonista, per esempio la spiegazione sul come il tutto abbia avuto realmente luogo, la chiave del Sator, Tenet che fa parte di questa cinquina di parole di cui non so molto, ho letto una recensione che ne parlavo al riguardo, in cui ciascuna parola, quindi Tenet, Sator e via discorrendo, rappresentino delle parole chiave che poi vengono in un certo senso riprese all'interno del film. Anche la scelta del fatto che il protagonista abbia una motivazione abbastanza labile, se vogliamo, per fare ciò che fa, il fatto di voler distruggere il mondo semplicemente perché non può essere suo, è un motivo da cattivo, da villain degli anni Ottanta, però è anche fortemente venuto da Nolan che vuole concentrarsi quasi più esclusivamente sull'impianto di racconto attraverso la visione, gli slow motion, l'andare indietro nel tempo. Da questo punto di vista Nolan sembra veramente averlo fatto apposta. Io sono tra quelli che non l'ho apprezzato troppo questo fatto, ci avrebbe preferito vedere un po' un Nolan classico in cui succede questo per questo motivo, c'è il cattivo che ha questa e quest'altra motivazione, però è palesemente una scelta sua del regista. Quindi parlare di errore mi sembra sbagliato perché è una cosa voluta, non so il motivo per cui abbia scelto questa cosa, ma sembra legarsi a stretto contatto con il fatto della tavola di Tenet, la tavola del Sator. Sapete, io sono un fan di Nolan, adoro la sua filmografia, però riconosco che abbia dei difetti, quindi faccio fatica io a difenderlo e non sarebbe giusto farlo perché sono io il primo a riconoscere che a livello di storyline, di storytelling, qualcosa in più ci poteva essere, qualcosa di diverso si poteva fare. Il tutto va a che a discapito di una recitazione secondo me un po' più sottotono rispetto ad altri film di Nolan e lo stesso Kenneth Branagh che è forse il migliore da un punto di vista recitativo, è un po' svuotato dal fatto che ha delle motivazioni abbastanza semplici. Voglio sapere voi cosa ne pensate di questo film, lo avete visto? Lo avete visto in IMAX che ve lo consiglio, guadagna tantissimi punti sicuramente. Lo acquisterete? Io penso lo acquisterò perché me lo voglio rivedere su un Blu-ray magari 4K in questo caso. Vi lascio qui sotto il link per acquistarlo in DVD o Blu-ray, in questo caso Blu-ray consigliato. E ragazzi fatemi sapere soprattutto voi cosa ne pensate. Ci vediamo presto con una nuova recensione. YouTube!